Udinese che cerca di ragionare di dove va, cerca di lanciarsi praticamente da solo, arriva a dargli una mano Sarda, Sarda rientra benissimo sul sinistro l'appoggio per Armenacas, serie di finte, il sinistro morbido! Che gol, che gol dell'Udinese Panos Armenacas 2 a 0, un gol meglio dell'altro in questo Udinese Avellino, Udinese 2 Avellino a 0, ma che perla di Panaghiatis Armenacas che ha preso la mira, ha caricato il sinistro e l'ha messa lì dove K non poteva arrivare neanche se fosse stato Spider-Man e dunque Udinese 2 Avellino a 0, la rete bellissima di Panaghiatis Armenacas Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti